Non è stata una settimana facile, no? No, come le altre. Questa alternanza di risultati. Siamo abbastanza fiduciosi perché comunque i ragazzi si allinano sempre con grossa voglia, con un grosso carattere. Abbiamo voglia di riparsa ogni domenica. Poi i motivi per i quali i risultati in casa sono diversi da quelli fuori non l'abbiamo ancora capito. L'importante adesso è lavorare al massimo per fare più punti possibili, per arrivare a gennaio con una classifica decente. Non sottolineiamo il fatto che comunque una squadra che al di là dei risultati negativi fuori casa, sei sconfitte, è una squadra che comunque ha 18 punti, quindi non è tutto da buttare quello che abbiamo fatto fino adesso. È vero che con qualcosa in più, probabilmente adesso godiamo di una classifica più tranquilla, ma è anche vero che quando sei costretto a recuperare punti per fare bene, il pareggio può servire a poco. Se ci mettiamo tante componenti, che siano quelle psicologiche, che ti portano comunque a cercare di vincere una partita anche al 95esimo, quando magari un pareggio può bastare, poi il rischio di perderla, come è successo a Rimini, è vivo. Quindi credo che siamo sulla strada giusta per cercare, quantomeno di prendere più punti possibili in queste due partite che chiuderanno questo in Fausto. Ormai lo reputo più in Fausto, 2015. Per cominciare nel 2016, sicuramente migliore. Ecco, quindi secondo te Fabrizio, non c'è bisogno di un cambio di mentalità nel senso di una squadra che deve abituarsi anche al pareggio a volte, comunque deve mantenere la sua, provare sempre a vincere. Ti ripeto, quando sei costretto, partiamo da un presupposto, se il campionato fosse cominciato a zero punti, probabilmente sei partite perse al 94esimo, 93esimo, probabilmente lo avremo pareggiate, perché la mentalità è quella di anche di gestire un pareggio, cioè se i punti fanno sempre più comodo, quando sei costretto a recuperare tanto in classifica e la mentalità è quella di vincere il campionato, non quella di salvarti, sei costretto a vincere. E ti ripeto, vincere significa, cioè essere costretti a vincere significa anche poter perderla una partita, rischiare di perdere, così è successo. Poi mentalmente, ovviamente ogni volta che perdi c'è un problema. Oggi dovremmo cercare di arrivare con la mentalità di una squadra che si deve vincere, ma che deve vincere con il coltello tra i denti per salvarsi. Quindi domani, sabato, per esempio, se a un minuto dalla fine sarete sullo 0-0, che teramo ci dobbiamo aspettare? Il teramo che prova a portare a casa l'1-0, e quindi magari si sbilancia un po', oppure un teramo che dice, vabbè, anche il punto contro una diretta concorrente può starmi bene. Ma non è mai una questione di accontentarsi o meno, è una questione poi di gestire la partita un minuto dalla fine in maniera diversa. Perché oggi il punto che tu vuoi, malauratamente, dovresti essere uno 0-0 al novantesimo, è un punto che adesso fa classifica. è chiaro che in attesa di quello che può, non può succedere con i punti che possono essere dati o meno, adesso noi dobbiamo pensare a quello che sarà la classifica da qui in poi. Da qui in poi significa che ogni punto guadagnato al novantunesimo è un punto guadagnato. Faremo del tutto, giocheremo sempre come abbiamo fatto per guadagnare i tre punti, ma non andremo a suicidarsi al novantunesimo. C'è un altro scontro diretto, perché al momento questo è la buona notizia che si gioca in casa a questo punto. Sì, visti i risultati e quello che ci dice l'andamento, sicuramente è importante che giochiamo in casa. Ma noi dobbiamo dare una sterzata, dobbiamo dare una sterzata anche fuori, perché una squadra che si salva si dice sempre, no, una squadra basta fare tanti punti in casa, vincere tutte le in casa e si salva. No, noi non siamo una squadra costruita per questo. Noi siamo una squadra che sono ormai tre anni che siamo qui come staff, sono tre anni che la nostra mentalità è quella di vincere. Andare in campo per pareggiare una partita, che sia al novantesimo, che sia già dal primo minuto, non fa parte del nostro DNA. Noi cerchiamo di imporre il gioco per quanto ci sia possibile, non è che il calcio è tutto scritto, il calcio si vince, si perde, si pareggia. Bisogna solo valutare come si vince, come si perde e come si pareggia. Visto che riguarda più o meno una zona di tua competenza, ti sei dato tu una spiegazione dei 20 gol presi? Sì, la pesantezza è tanta, la pressione è tanta. Una squadra che viene da cinque sconfitte in tutto il campionato l'anno scorso, si trova già alla sesta sconfitta, sicuramente a livello mentale carica tanto. E' proprio a certe volte la paura di commettere un errore che ti fa commettere l'errore, perché sei sempre in uno stato di tensione, non stai mai tranquillo. Quindi diciamo che secondo me, da quello che posso dire, probabilmente dipende da questo, dalla non sicurezza in determinate cose. C'è la sensazione che magari cambierete qualcosa in vista della Vistoiese? Ma guarda, solitamente si fanno delle scelte, quando una squadra fa una prestazione come quella che è stata fatta in casa, contro il Siena, si cerca sempre di dare una continuità, sia di risultato che di formazione, quindi è anche una scelta giusta per il gruppo. Se lavoriamo con il gruppo, ognuno deve avere la sua possibilità e deve avere la possibilità di riproporsi. Anche quando le cose vanno bene, soprattutto, si ripropone il discorso. Ovviamente quando si perde, il gruppo è composto da 24 persone, nessuno ci obbliga a mantenere la stessa squadra, siamo 24, tutti validi. Può succedere che qualcosa può cambiare. Una partita con il Siena, così come potrebbe essere, per esempio uno scontro diretto contro la Vistoiese, è a maggior ragione l'ultima del 2015, in caso della capolista. Possono essere un segnale che questa squadra ha bisogno di qualche stimolo, del grande appuntamento, dell'avversario importante per reagire? Probabilmente sì, perché nella testa dei ragazzi credo ci sia la consapevolezza e la coscienza di essere una squadra all'altezza. E questo io penso che fino al 30 giugno sarò qui a ripeterlo, perché è una squadra che ha dei ragazzi che hanno dei valori interni. Poi, il fatto della prestazione può dipendere da molti fattori, da molteplici fattori, ma credo che sia una squadra che è consapevole di essere una squadra da vertice. Ha la forza per poterlo fare e probabilmente quando si incontrano squadre forti esce fuori questa particolarità. Senti, sei consapevole del fatto che se dovessero andare bene con te in panchina queste due partite poi per tutto il 2016 dovrai siedere la partita? Ma per tutto il 2016? Almeno il 2015 sì, visto i giornali squalificati del Mista. No, dovessero andare bene queste due partite. Sei consapevole anche solo per un fatto scaramante. Sono consapevole solo per il 2015, no, nel 2016. Assolutamente no. Assolutamente no. Come l'hai visto Vivarini in questi giorni, visto che comunque sei un amico anche insomma al di fuori del campo? Ma il mister, come tutti noi, soffriamo un po' tutti di questa situazione perché comunque è stato difficile iniziare già a giugno senza sapere in quale categoria sarebbe militato. Abbiamo fatto una scelta importante, credo che i ragazzi l'abbiano insieme a noi sposata e quando non vengono risultati tutti ovviamente siamo un po' più nervosi. Poi quando succede quello che è successo domenica e francamente sono qui a ripeterlo e il mister ha semplicemente detto pochissime parole e neanche parole offensive all'arbitro. Quindi ci rendiamo conto che essere espulsi due giornate dall'altro senza aver neanche invejito neanche una parola fuori posto oggi ti mandano fuori semplicemente perché hai alzato un braccio. Loro giustificano il plateale ma io se dico mamma mia quanto sei bravo quanto sei bravo facendo un gesto plateale mi mandi fuori e mi dai due giornate io magari ti ho detto semplicemente bravo e questo sono un po' di ipocrisia su questo e quindi è chiaro che un allenatore che si trova fuori per due giornate in due partite così importanti permettetemi il termine un po' incazzato ti può anche stare. Senti mister come valuti come giudichi invece il livello di attenzione della squadra dello spogliatore in questo momento cioè in senso voi vedete giocatori che comunque sono carichi hanno una rabbia positiva dentro che si uscita di questa situazione oppure c'è più un atteggiamento di come dire chiamava depressione tra virgolette cioè di subire questa situazione. ho capito ho capito la domanda non credo che ci sia un atteggiamento di depressione non lo vedo vedo gente motivata gente carica soprattutto chi gioca meno chi ha giocato meno tutti hanno giocato è normale che sia così è normale che chi non gioca abbia dentro la rabbia in più è normale che chi gioca invece abbia quella rabbia per dimostrare che non siamo quelli che vediamo fuori casa ma siamo quelli che si vedono spesso in casa quindi c'è una grossa motivazione da parte di tutti per fare risultato e per uscire da questa situazione che è pesante per tutti ci rendiamo conto che è pesante per tutti ma nessuno ripeto nessuno sta qui per per fare la presenza nessuno dei 24 ragazzi dello staff della società siamo qua per fare un campionato decente a questo punto arriviamo dove dobbiamo arrivare poi vediamo intanto pensiamo partita per partita a dare il massimo il massimo di noi in tutto ci sono problematiche a livello fisico che posso mettere dubbio non che siano di normale amministrazione c'è anche i vari ma niente di che non è messo a disposizione della Pistoiese che ci dici? della Pistoiese posso dirti che è una squadra che è diretta concorrente in questo momento e quindi loro saranno coltello dai denti una squadra che corre una squadra che ha buona individualità sugli esterni io in questo momento qua penserei a noi e non agli altri perché anche un carico degli altri in questo momento può darci fastidio pensiamo a entrare in campo noi come rullo compressore come abbiamo fatto con l'Arezzo in dieci uomini schiacciati dentro la metà campo per 80 minuti e poi usciremo con il risultato in mano entrare in campo a livello tattico il modulo non si cambia sostanzialmente ma queste sono valutazioni che fa il mister durante la settimana vediamo anche con la disponibilità dei giocatori chi sta bene chi sta male chi ha giocato di più chi ha qualche minuto più sulle gambe chi ce l'ha in meno sono valutazioni che aspettano espressamente a lui però diciamo che quel modulo è un punto di riferimento è un modulo che comunque ci ha portato a vincere un campionato l'anno scorso